buongiorno improvviso questo video oggi è sabato è sabato 9 aprile e qui mi sono posizionato in questo punto sulla punta dell'africa sulla sul nostro bellissimo sulla nostra bellissima antartide perché questo è preso da time and date e ci fa vedere il sole come si muove ovviamente noi stiamo guardando verso il centro della terra la terra piana stiamo osservando verso il nostro bellissimo equatore comunque che si trova come vedete il sole gira al contrario va da ovest verso est perché ci siamo girati ok e qui siamo passati invece nella nostra bellissima broinlandia e se noi facciamo una videata del sole come si muove innanzitutto come vedete ho cambiato direzione perché sto guardando verso l'equatore e ovviamente il cielo qui non c'era più che in senso orario ma in senso anti orario il sole in questo nelle ultime 24 ore non si vede neanche da questo punto anche se vedete che la luce del giorno comincia ad arrivare abbastanza velocemente questo per farvi capire che praticamente da dove ci troviamo sulla nostra bella terra piana sarà così nella prima parte eravamo in questo punto qua sull'antartide e stavamo guardando verso nord verso il centro della terra di conseguenza il sole lo vediamo girare da ovest verso est è abbastanza semplice mentre nella seconda videata che abbiamo visto non abbiamo visto il sole ma abbiamo visto il cielo che gira al contrario se fosse un giorno estivo vedremo il sole sempre messo in questa posizione che ruoterebbe come capita a noi lo vedremo girare da est verso ovest ok questo perché perché tanti chiedono ma perché si vede il cielo girare al contrario dopo l'equatore non è che gira al contrario è che è come andare su un treno sono stati fatti diversi video e cerco di improvvisarmi questo è come essere su un treno se io sono sto andando solo in in una direzione ma se mi metto davanti al treno vedo praticamente gli oggetti che vengono verso di me se mi metto mi giro di 180 gradi vedrò gli oggetti che si allontano da me questo è abbastanza semplice ovviamente in tanti video che trovate soprattutto su indice alfabetico vedrete del perché si vede il cielo che gira nel senso opposto perché con i nostri occhi noi abbiamo due fattori primo che il nostro orizzonte la nostra veduta è praticamente come una cupola sopra di noi inoltre anche nel video che vi lascio il link nella la parte sottostante si vede l'effetto dell'atmosfera è stato praticamente creato col computer o meglio più che creato simulato il fatto di vedere nel cielo attraverso l'atmosfera su una cosa che è praticamente piana succede che si vede attraverso l'atmosfera si vede girare al contrario e si abbassa fino all'orizzonte ok trovate molti altri video che spiegano di questo questo video è stato fatto viene fatto perché le solite domande dicono ma come mai se guardo dalla parte opposta gira al contrario come ho detto prima è come essere su un treno se guardo davanti le cose mi servicinano se guardo dietro le cose si allontanano e in più c'è l'effetto della nostra visione il nostro occhio può vedere solo in un certo modo noi vediamo sempre le cose fatte in un certo modo fatte ad arco come l'arco baleno che si sposta insieme a noi e non dimentichiamo questa cosa spero di riuscire a rappresentare in video quello che sto dicendo adesso perché lo sto facendo senza le solite metodologie di usare un testo precompilato pertanto i miei li troverete spesso buon fine settimana buona visione state bene e soprattutto non andate in ansia per tutto quello che vi viene trasmesso dalla tv ok ciao per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu su questo canale youtube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divisa per tematiche le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento